ciao ciao oggi volevo girarvi il video di sette rossetti per il dicembre del 2021 allora non sono ispirata da nessuno per fare questo video però ogni dicembre di ogni anno cerco di utilizzare i rossetti rossi per darmi un po' di look natalizio estivo farò durare questo progetto fino al 31 dicembre perché lì è che festeggiamo di più diciamo in ucraina io sono ucraina se non lo sapevate allora prima di tutto vi farò vedere il rossetto che indosso adesso che forse è tutto sbordato vediamo se è vero infatti l'ho messo un po' così con la questo è il rossetto rosso per l'eccellenza ruby w di mac allora questo è il suo stato ovviamente in un mese non riuscirò a utilizzare sette rossetti fino allo stato di completa utilizzatura però vi volevo far vedere come sono non è sbucciato sulla mano perché è sbucciato sulle mie labbra poi c'è questo rossetto ombra dusk di lucky fine che è sbucciato qua è un rossetto aranciato matt liquido quindi molto molto resistente questo l'ho comprato su amazon un anno fa poi c'è crimson queen anche questo comprato su amazon questo tende di più al freddo poi passando a rossetti cremosi c'è questo di milano che ce n'è rimasto davvero pochissimo e profuma tantissimo di vaniglia ma oramai il profumo sta andando via quindi penso che piano piano dovrò sfruttare questo rossetto fino a finirlo poi c'è questo rossetto di franken diciamo un rossetto che mi sono fatta da sola fatto da un ombretto e balsamo labbra come vedete il suo stato è molto bucato poi ci sono due puttini altri allora uno è raspberry kiss numero 43 di Sien questo era in edizione limitata di Sien di qualche anno fa molto bello ho dovuto depottarlo perché era troppo morbido e si era sciolto e l'ultimo ma non più importanza è questo rossetto balsamo di fattura mia come vedete è sbocciato qua quindi cosa ne pensate di questo progetto pensate che riuscirò a utilizzare sette rossetti rossi per tutto il mese senza mai andare sui nude allora il pennellino che utilizzerò con i rossetti che sono in pozza è questo di astra astra professional è un pennellino da borsetta che si chiude così è molto molto bello e ve lo consiglio questo è tutto quello che io volevo dire grazie per l'attenzione e ciao ciao grazie a tutti